il linguaggio di moda sportiva in tedesco andiamo un po a vedere in cosa consiste troppo veloce in realtà il linguaggio di moda in generale quindi partiamo dal generale per andare andare sempre più nel dettaglio per quanto riguarda il tedesco è un po una somma di contaminazioni prevalentemente da inglese francese italiano l'inglese soprattutto negli ultimi anni poi l'avrete visto sicuramente anche già con con eugenia la fa da padrone perché ci sono tantissimi termini che riguardano magari le taglie la vestibilità anche le finiture degli indumenti che vengono spesso mantenuti inglese ed è quasi quasi strano tradurli poi per noi in italiano ma vale lo stesso appunto anche per il tedesco in più ci sono alcuni termini un po più antichi possiamo definirli e anche un po più sempreverdi quindi non termini nuovi che vengono appunto dal francese l'italiano il tedesco è stato moltissimo influenzato soprattutto dal francese dall'italiano per quanto riguarda i settori anche dell'arte e della creatività e questo se lo se lo trascina appunto ancora oggi in realtà quello che è il nostro linguaggio della moda questo in generale è un linguaggio che ha molto specialistico che può essere molto tecnico e settoriale e anche creativo questi tre aspetti sembrano un po cozzare tra di loro ma in realtà è esattamente quello che troviamo perché come appunto avete anche già visto il linguaggio i testi di moda non non sono di un'unica tipologia possono essere i più svariati possibili quindi se prendiamo ad esempio una scheda di prodotto o invece un articolo di moda avranno due linguaggi comunque diversi parleranno bene o male della stessa cosa ma avranno due linguaggi completamente diversi quindi è importante essere consapevoli anche di questo perché a volte ci viene lasciato lo spazio creativo e possiamo rigirare le frasi cercare di riformulare rendere il tutto insomma una forma più scorrevole altre volte invece ci viene richiesto di essere più aderenti al testo e di dover utilizzare dei termini molto specifici che bisogna conoscere bisogna fare un po mix match dipende ovviamente dal cliente dal tipo di progetto però questo per darvi un po un'idea generale nello specifico linguaggio tedesco della moda è molto ricco di calchi di neologismi a volte anche di acronimi e sigle e di parole straniere quindi le parole parto dalla fine le parole straniere come abbiamo visto prima appunto che vengono da dalle altre principali lingue europee acronimi e sigle per quanto riguarda soprattutto certi composti per i tessuti soprattutto quindi andiamo già più nel tecnico a volte addirittura nel nel chimico ovviamente questo non lo troverete in uno slogan pubblicitario ma è più facile trovarla appunto in una in una scheda prodotto avremo sicuramente dei neologismi questi il tedesco ama alla follia creare nuovi termini ama le parole composte questo insomma se traducete già o comunque avete avuto già un po di contatto con i testi tedeschi ve ne sarete resi conto e spesso sono termini che è difficilissimo trovare sui dizionari per i quali è difficile trovare un riscontro e bisogna un po inventarsi una traduzione che possa reggere poi appunto in italiano e poi tantissimi calchi vedremo vi ho riportato alcuni esempi vedremo tra poco proprio di come a partire da una parola straniera il tedesco tedeschi tedeschi stede schizzi spero si dica così e spero di aver passato il concetto quel termine specifico che però appunto non ha un origine tedesca ma è esattamente un calco nient'altro in più il linguaggio tedesco della moda è caratterizzato anche dall'utilizzo di tantissimi aggettivi da una punteggiatura particolare quindi qui mi riferisco soprattutto a quelli che sono i testi un po più creativi e un po più divulgativi non tanto le schede tecniche abbiamo appunto una punteggiatura che non è quella standard anche perché anche le costruzioni delle frasi non sono quelle standard viene inserito spesso quel trattino tipico dell'inglese che è un po' l'equivalente per noi degli incisi tra virgole o tra parentesi anche che non fa parte appunto della nostra lingua italiana anche se piano piano diciamo sta un po' entrando a far parte anche dell'italiano proprio perché vengono utilizzati tantissimo proprio come se vogliamo anche calco anche in questo caso di punteggiatura rispetto all'inglese abbiamo le costruzioni participiali che sono probabilmente una delle degli aspetti più complessi del tedesco da gestire perché sono quelle frasi dove praticamente bisogna andare alla fine della frase e poi risalire da destra a sinistra quasi come fosse arabo per ricostruire appunto la frase con gli elementi nel giusto ordine mentre se li leggiamo da sinistra a destra li vediamo esattamente come se fossero allo specchio in più un altro grandissimo una caratteristica che risulta essere anche spesso un po' un ostacolo nella traduzione di testi tedeschi in italiano è il fatto che molto spesso ad una parola tedesca ne corrispondono diversi italiane io qua ho messo il numero 10 non a caso lo vedremo dopo c'è un esempio in cui ci vogliono esattamente dieci parole per esprimere lo stesso concetto questo da un lato è qualcosa che a me ha sempre affascinato moltissimo ed è molto lodevole da parte del tedesco proprio perché ha una ricchezza semantica dei suoi termini che noi in italiano appunto non abbiamo e quindi si riescono a convogliare anche piccole sfumature di significato che a volte in italiano poi vanno perse perché si fa fatica proprio a rendere e questo appunto può essere un ostacolo perché difficilmente riusciamo a trovare una sola e unica parola che esprima pieno il significato di quel termine ma al tempo stesso ci dà modo di esercitare al massimo la nostra creatività per appunto spiegare e descrivere cosa quella parola tedesca in realtà significhi e insomma sta ad intendere in più il discorso che non sempre il testo tedesco è scritto bene adesso questo scritto bene l'ho messo tra virgolette perché com'è scritto bene un testo non ci sono delle regole fisse non ci sono delle leggi scolpite sulla pietra per scrivere bene un testo però diciamo che nonostante questa ricchezza semantica del tedesco le frasi risultano essere più schematiche proprio per la loro struttura e a volte è difficile trovare il ritmo che troviamo magari invece appunto nell'italiano anche semplicemente nell'inglese o nel francese per cui a volte sembra tutto un po piatto e a seconda del cliente a seconda del progetto siamo noi a dover eventualmente intervenire e a dare carattere questo ovviamente se è previsto dal tipo di progetto e ci viene richiesto o è permesso non ovviamente quando si tratta di semplici testi tecnici questo significa anche che a volte in realtà è un discorso un po più generale non solo della lingua tedesca e non solo dei testi di questo settore ma insomma in generale quando vengono preparati soprattutto e torno sempre al discorso delle schede tecniche a volte non vengono riletti manca una fase di rilettura e quindi ci ritroviamo poi con dei testi che possono avere dei refusi delle ripetizioni che sono inutili ci possono essere delle piccole inesattezze quindi bisogna comunque sempre stare un po allerta perché noi in qualità di di traduttori non solo dobbiamo tradurre ma dobbiamo anche renderci conto se quello che stiamo traducendo ha un senso e non solo nell'italiano che stiamo rendendo noi ma proprio anche nell'originale a volte questo non accade cioè i testi a volte dicono cose esattamente opposte in diverse parti della dello stesso documento quindi bisogna prestare attenzione ed eventualmente poi appunto segnalarlo al cliente se andiamo sempre più nello specifico e andiamo a parlare di linguaggio tedesco della moda sportiva troveremo diversi tecnicismi tecnicismi che possono essere piuttosto ostici poi da rendere in uno dei testi che avevo dato come esercitazione c'erano appunto queste schede prodotto di questo marchio che produce prevalentemente esclusivamente capi d'abbigliamento appunto sportivi che hanno un elevato grado di tecnicità sia a livello linguistico che poi proprio delle caratteristiche dei capi stessi e questo è qualcosa col quale può capitare appunto di scontrarsi quindi la moda non è solamente il grande lusso di di chanel e di dior ahimè però a volte ci sono appunto anche cose un po più tecniche per le quali bisogna fare degli studi un più focalizzati cosa succede può succedere che abbiamo anche un lessico medico e soprattutto anatomico quindi si vanno a volte a citare delle malattie delle dei problemi fisici si vanno a citare parti specifiche del corpo umano che non possono essere banalizzate anche perché se vendiamo un dispositivo adatto per non lo so appunto una patologia deve essere chiaro che sia specifico per quelle e non vada bene per altre quindi non possiamo sbagliarci o essere troppo generici su questo in più possiamo avere come vi anticipavo già un po prima anche un lessico tecnico per quanto riguarda i tessuti soprattutto quando si tratta appunto di moda sportiva e quindi c'è una grandissima ricerca e tantissimo sviluppo nel trovare dei materiali che possano essere appunto di aiuto magari per far traspirare meglio per non inzupparsi troppo di sudore per riscaldare durante l'inverno ecco c'è tutta una serie di di termini appunto che bisogna essere pronti poi a a sapere in più appunto possiamo avere un lessico tecnico dei dispositivi medici perché a volte questi indumenti in realtà sono dispositivi ginocchiere cavigliere sono supporti per le articolazioni in generale quindi ci possono essere anche appunto cose molto più specifiche e tecniche e a volte ci sono dei termini inglesi che sono impossibili da tradurre vedremo degli esempi di quello che vi sta introducendo un po adesso dopo quindi sarà un po più chiaro però veramente ci sono delle cose che uno che sa l'inglese capisce che cosa che cos'è quel tale dispositivo che cosa significa ma poi in realtà in italiano non esiste niente di tutto ciò vuoi perché magari in germania sono più avanti vuoi perché hanno appunto sono avanzati per quanto riguarda le ricerche e lo sviluppo di questi dispositivi però ahimè in italiano a volte difficilissimo se non impossibile trovare dei traducenti appunto che siano attestati